salve a tutti ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di leon trip e bentornati in un nuovo episodio di dice mantal e siamo ancora qui con il nostro ciccio per andare avanti con la nostra avventura ragazzi fermi tutti fermi tutti perché mi è appena arrivato anzi ho appena fatto un aggiornamento e credo che l'aggiornamento abbia sbloccato un'altra area adesso non so se era questa ma penso di no perché ha detto a sud a sud è stata sbloccata un'altra area ma sud dove in che senso credo che sia questa perché parlavano di ro r h o quindi resumo sia qua poi andremo a vedere raga e però nel frattempo andiamo avanti con la nostra ventures qui e dovevamo fare sta roba qua il fatto è che io adesso appena fatto spawnare il cristo santo e quindi niente spacco la porta e gol via questo è successo a no spesso giusto giusto avevo avevo il quello che praticamente mi curava ma la vita era uno sputo vero volevo provare ok mi proviamo un attimo i pesci ragazzi io qua pesco un po perché i pesci sono sempre rari e peschiamo vediamo cosa prendiamo su qua o per la no non peschiamo più mi serve per pescare il trinket ehm tiriamo via il pugno un attimo ci mettiamo un attimo questo e e peschiamo qua tanto ragazzi io do un po di prepotenza qua al volume sperando che non sia troppo dai spero di no vedremo quello verde non me lo dai pesce verde pesce verde pesce verde pesce verde qualcosa di verde in realtà ci ha dato però non proprio quello che volevamo eh dell'XP come vanno su niente comunque sapevamo che il pesce verde è stato tipo sbloccato tempo fa ma dovevamo solo andarlo a prendere era nell'altro punto diciamo di pesca e ovviamente chi si ricorda dov'è ma allora noi abbiamo vabbè di trovare le quattro fuel cells però dobbiamo anche find green coffee marker quindi vediamo un po il green coffee dove cacchio è intanto vedo già della gente cattiva io sto girando con la canna da pesca equipaggiata che non va tanto bene quindi questo qua me lo togli e mettiamo il pugnazzo e direi che la canna pesca possiamo anche buttarla toglierla diciamo ecco diamoci la nostra accetta e andiamo avanti a vedere cosa succede in questa zona perché io penso che è vero che recuperiamo vita ogni volta che abbattiamo qualcosa ma secondo me quello intanto è già pericoloso e cioè voglio dire secondo me questi attack attack abbastanza forti per buttarli giù ci sono dei funghetti avete visto qua dentro nascono dei funghi coltivavano dei funghi maledetti vabbè raga io provo andare a vedere anche qua dentro c'è qualcosa di interessante così venire un attimo qui no ho preso il letto ho preso l'armadio ho preso tutto quello che non dovevo prendere tranne lei attenzione preso il tavolo e si guarda e visto che c'è il mirino guai non è che lo sta inventando il mirino c'è c'è veramente oppela la un altro di tutti qua che sparano aia non è molto molto utile sta cosa qua del troppo alto vero il in pratica sicuramente non contro il boss quasi mi vado a prendere la mia no scusa qua c'è una ricetta con le ossa per il cane avevo tenuto le ossa per il cane questi sicuro aspetta qui cosa c'è cerca cerca l'ho trovato find a red television setting a television red di questa faceva parte della questa ahah visto red television qua ce n'è una ma è pink è una pink television questa e la red television dove cacchio la vedo a no ma non si può ragazzi mettere tipo così ah no è già è già segnata vedete quindi cosa c'è della stoffa che non ci interessa io abbatto anche il letto e scusatemi ma me li devo prendere un attimo posso fare anche la torta posso fare il tenderio in non so ragazzi fatemi sapere se si possono piantare anche i funghi penso che i funghi non si possono piantare vero se li trovate così in giro a random sono un mucchio di frigoriferi guarda quanti frigoriferi che avevano questi hanno fatto la scorta di frigo qua secondo me non è una gran cosa no vediamo vedere qua in cucina nel frattempo raga che così eh tutto rispetto ecco no voglio vedere qua no c'erano dei c'erano delle robe qui spezie e grazie niente non le prendiamo eh va bene allora sacca un po' di robe ah là c'è un'altra lente di ingrandimento a cercare dice red television questo è molto utile ci fa comodo in realtà dice red television si lo so che abbiamo lasciato un vasetto di spezie lassù ma ah i funghi funghi però raga va bene facciamolo là ok qua c'è uno ma qua in questa zona sono tutti cattivissimi di quelli che sparano a distanza non ce n'è uno di quelli che no eh allora fatemi pensare un attimo red television dice red television vediamo se becchiamo una red television qua in giro ma con computer va bene lo stesso oh no aspetta un attimo porca c'è la miseria e adesso dovrebbe essere questa no esatto quindi qua in giro dovrebbe essere se sta cacchio di poi tanto moriremo alla prima volta che moriamo ragazzi vi dico subito che tolgo quel tolgo quel cavolo di trinket che non serve assolutamente niente forse magari potrebbe anche servire ma quando avremo molta 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 più vita di così perché a sto punto non serve assolutamente niente posso assicurare che è una perdita di risorse e basta allora tu vai giù ok ok e qui non c'è niente qui vediamo un po' qua c'è il cantiere ma il cantiere non è che se sono messi a guardare la tv no ecco qua facciamo già le pezze calde vedete secondo me io qua mi conviene tirarci ho sbagliato ho detto che mi conviene tirare le bestemmie mi conviene tirare tra l'altro che non lo miri miralo ok mamma mia ecco ci vuole tanto niente non è anche morto questi coltelli cioè io non lo so va bene allora è pericolosissimo girare questo trinket porca miseria voi dite no è semplice perché ti cura sto cacchio avete uno sputo di vita guarda la televisione esiste eccola lì l'abbiamo trovata si sto girando così a caso mi è trovata subito intanto mi spacchi sta roba telefono il telefono grazie vabbè mi ha una poltrona qua in mezzo alla camera e vedi che non ci sta per niente bene insomma eredamenti di interno qua insomma eredatori ok adesso devo trovare i termosifoni blu ma cosa ma porca allora fermi tutti scusi lei ha visto un termosifone blu no mi ha detto di no qua è un cantiere non penso allora occhio tanto non scoprirà mai un incendio vedi allora occhio al buco perché ci cadiamo dentro cadiamo dentro al buco allora termosifone blu ma non ne vedo forse qua in questa casa qui termosifone blu perché quelli sono anche attaccati a muro quindi si vedono proprio benissimo qua io non ne vedo ma questi qua nemmeno ce li avevano termo qua in casa ma deve essere qua dentro adesso ho ruotato la visuale non so se questa si è esplorata ma penso di si qui così ciccio e dai e lei vedete che sto lavorando allora termosifoni blu dice ah qua è anche bloccata potrebbe essere anche in questa casa vediamo come se lì il cane il cane il cane il cane ok il cane no il cane è meglio ragazzi lasciarlo e shottarlo subito perché se no comincia a correreci dietro ed è un casino allora andiamo qui dal dal falò perché devo mettere giù due oggetti due robe due ok torniamo là torna 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 ma dobbiamo riuscire ad entrare in questa casa qua che lì è sprangata va bene qui invece si apre vero non so a sprangare sta porta poi entri di qua là ok lì c'è un termo vede però non è blu è cattivissimo allora lì c'è una radio vabbè la radio ragazzi la possiamo anche dai porca miseria c'era quello cattivo qui pomodoro per cui ah abbiamo trovato una nuova ricetta la berry tart cooking recipe va bene accetto l'accetto un sacco di roba da cucinare poi un giorno ragazzi la cucineremo ah tra l'altro questo tenderion qui lo possiamo fare ragazzi lo facciamo così ce lo togliamo da lì tenderion tenderloin vabbè qualsiasi cosa sia intendo io di mangiaricci allora tac 1 2 3 4 poi 5 funghetti che sono tutti quelli che abbiamo ma chi se ne frega la carne 8 lavaccia 3 4 5 6 7 8 lavaccia e 4 patate 1 2 3 e 4 che si fa spend it è giusto eh 8 ah 5 funghi scusa ok vai putta tutto dentro ok e mi da melee damage melee damage contro i mostri sperai credo che comunque quando moriamo però queste cose qua vadano a disattivarsi è stata una gran scelta praticamente prepararlo subito però vabbè intanto ce lo togliamo da quella lista lighe come detto beh comunque se tu miri lo zombie e spacchi le altre robe invece di prenderlo zombie è chiaro che si muore poi no andiamo ad aprire questa cavolo di informazione assurda per non risparmiarsela allora c'era la doccia ah scusa possiamo rompere questo così sblocchiamo no sblocchiamo non posso danneggiarla con questo attrezzo sul serio se ne frega tanto siamo dall'altra parte io qua ragazzi termo non ne ho visti eh maledizione quindi non è qua comunque noi cerchiamo dappertutto perché sennò cina qua non c'è niente vabbè qua c'è il telefono che lo possiamo rompere ok va bene allora qui niente anche la bituniera scusa se si può rompere ah 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 qua c'era una roba che non abbiamo letto ok ah eccolo mamma mia mica l'avevo vista adesso devo trovare una tombstone arancio tombstone una lapide questo la tombstone cioè tombstone vuol dire lapide arancio questi colori porcaccio due vabbè tombstone aia che non mi ha curato scusi mi serve un po' di vita grazie tombstone farà sicuramente in un cimitero no mi sembra quella lì credo che sia questa no mi sembra un cimitero arancio 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 questo è verde eccola dovrebbe essere questa ok ancora trova grand grandfather clock l'orologio del padre l'orologio del nonno l'orologio giallo del nonno perché dovrei fare queste cose spiegatemelo così devo fare sta caccia al tesoro porcaccia alla miseria questo si può rompere abbiamo un po' di legno l'orologio del nonno nord nord ovest salis graveyard ok nord ovest più o meno qua dobbiamo vedere qua un attimo lo becchiamo scusi ciccio non ho fatto apposta non ho fatto apposta però anche lei niente vede devo per forza prendere le botte e morirci così perché lui decide di accettare qualsiasi cosa che non sia il nemico che è davanti questa è una cosa da rivedere cari sviluppers però non me ne frega niente io mi siedo qua raga e vado a togliere no ho visto che non conviene assolutamente inventario togli sta roba ma per carità veramente schifo però piuttosto ci metto il latte che è 30 volte più utile knockback baseball card anche knockback no 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 ma la corda già ce l'avevo heat protection chiamo questo che mi dà protezione da caldo almeno cioè beh al freddo volevo dire allora e andiamo e adesso sti cachi potete colpirmi tutte le volte che volete vedete adesso io gioco sicurissimo e sono un gioco molto aggressivo sapendo che ho tanta vita quindi probabilmente che mi colpiranno adesso io faccio così oppe là oppe là là vabbè si mi hai colpito bravo è un figo grandissimo là ok mamma mia e dove volevamo andare noi noi volevamo andare dove ho messo qui aspetta dove che avevo messo la bandierina vabbè gli oggetti sti cazzi e su qua e di qua ah giusto il cane scusa e di qua dovrebbe l'orologio del nonno ma che cachi tra cui siamo a nord chelis qui no nord ovest più o meno aia 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 allora la pizza complimenti complimenti aia 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 ah qui c'è un altro falò può aprire questo ma non penso a fix con dieci pezzi di vediamo può fixare attenzione fixare ma dove siamo siamo qui c'è la link tower però attenzione quindi si conviene farlo assolutamente no no prendi ne ne puoi grazie fixato grande open gate ok beh ragazzi le missioni qua della caccia al tesoro ho anche sti cacchi perché dovremmo anche esplorare un po' in giro no sta roba se no che fai devo riuscire a raggiungere quella torretta quella torretta lì devo riuscire a raggiungere ah non si può raggiungere fa il giro sembra un po' troppo semplice no ok non sto più usando sta cosa perché mi sembra abbastanza inutile devo fare tranquillamente anche senza vabbè ascolta io non ho tempo da stare qui a perdere con voi quindi spacchiamo la recensione i cacchi dai 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 come avevo programmato mi stici in gergo ok ok ora sono molto teso non ci arrivo comunque lì però da qua ci arrivo mi spiace eh mi spiace avete visto io ho il potere di distruggere la roba io da qua ci arrivo e come se ci arrivo no 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 troppi 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 fermi tutti ok andiamo avanti anche tu no ti fermi le finte doppio passo ok e vediamo di aprire sto coso o le open gate grande e qui io posso mettere è il premuto per attivare ragazzi qua ci metterei una di quelli che non li fanno respawnare che dite ce ne abbiamo un sacco vediamo cosa ci sblocca tutta questa zona qui e qua non credo che potremmo andarci ok i transmitters qual era quello che questo respawna tutti quelli che sono morti questo invece ok questo craft li ho messi installato ok beh anche questo mettilo che se ne frega dobbiamo metterci il conto dei nemici che sono morti quest'area giusto da dove ma si mette il conteggio aspetta cos'è che fa show statistics forse è qui dalla mappa ah no eccolo 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 l'ho visto eccoli qua giusto questo 0 più 23 esatto vabbè perché sono già morti su 110 se ne sono 110 in questa zona qua da accoppare va bene allora questi sono già morti quindi probabilmente respawneranno ma vabbè allora raga io prendo qua il mio falò visto che adesso abbiamo sbloccato qua la shortcut e ci metto dentro questo e a quanto pare mi servirebbe una zona per andare a mangiare qualcosa dove siamo qua scusate tra l'altro noi siamo qui e non arriviamo in città per arrivare in città dobbiamo fare il giro perché lampeggia qua ah perché siamo morti qui torni indietro ragazzi devo prendere un po' di roba e così cerchiamo anche questo giallo orologio giallo insomma per vedere il lampeggio qua va un po' schifo la zona qua così è un orologio giallo vabbè lascialo lì ma qui cosa vediamo però eh e morti e morti che non sono morti e io no 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 ma lupo no raga perché manca anche solo il lupo devo andare giù di qua ok vedermi qua no ho sbagliato strada potrei cucinare qualcosa sì ma è pericoloso ok salvi allora ok oh mamma mia vado riempiquarmi un po' la vita ok e cerchiamo aspetta quanta ok no sono già al massimo E cerchiamo sto orologio del cavolo Così dai Muoia per favore Grazie Non devo più venire qui A rompere le palle E l'accetta che ci mettiamo Quattro vite se no Così eh Zombie con manie di protagonismo Opertone qui E l'orologio blu Qui c'è Dobbiamo anche liberare qua volendo Però io non vedo niente Cavolo lo dovrà segnare no No Eh si 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 E vabbè Rompiamo tutto Davi una mazzata Ok Basta Non ne voglio più sapere Allora Prologio blu Io non le vedo raga Cioè non Cavolo è Non c'è Ma non c'è Quanto stiamo Adesso ci soltiamo Se no Andiamo un po' lunghetti E senti Cioè Allora Viene da cercare Vediamo un po' Facciamoci casa a casa Allora Qua L'abbiamo fatto Giusto Qui c'è il fallo Qui c'è il fallo Ci sono una Due Tre Quattro Cinque Che questo qua è bella grande Sei case Perché magari qua dentro Aspettate Perché Allora Facciamo così Andiamo là dentro Se non è là Ci salutiamo raga Perché Allora ragazzi Scusatemi Sono arrivato qui E In pratica Non ho trovato Quell'orologio Questo qua Che mi dice lui Ma Non l'ho trovato Quindi Devo fare I saluti finali Ma alla fine Cioè il programma Ha smesso di registrare Non vi siete persi Tantissimo Cioè vi siete persi Il percorso Per arrivare qui E basta E in pratica Stavo dicendo Che me lo vado a cercare Io magari off camera E poi riattacco E vi faccio vedere Nel prossimo episodio Dove trovarlo Comunque Vabbè Intanto mi vado a fare un giro E mi vado praticamente A spaccare Tutta la mobiglia Di questa città Praticamente ragazzi Romperò tutto E noi ci vediamo Al prossimo episodio Grazie a tutti per essere con me L'entripe è tutto ragazzi Ci vediamo alla prossima Ricordatevi che Un like per voi Non cambia niente Assolutamente Gratis Ma a me Cambia la qualità Della vita Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.